Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Telemolise. Tra polemiche, insulti e minacce, i molisani continuano a parlare della brutta figura rimediata dai consiglieri regionali messi sotto torchio dalle Iene. E intanto l'assessore Facciolla mostra a Telemolise il contratto del suo portaborse. Sentiamo in apertura Giovanni Minicozzi. No, no, non è così. Insulti ai politici, polemiche, minacce e indignazione popolare sempre più accentuata. È successo di tutto dopo la trasmissione delle Iene sugli stipendi dei consiglieri regionali e soprattutto sull'indenità aggiuntiva per i portaborse percepita da quasi tutti gli eletti di Palazzo Moffa anche dopo l'approvazione della legge numero 10 del 25 luglio 2013. Intanto l'assessore Vittorino Facciolla, il più tartassato dalla Iena Paolo Calabresi, ha eliminato ogni dubbio mostrando a Telemolise il contratto sottoscritto tra lui e il famoso Vincenzo utilizzando proprio i fondi dell'articolo 7. Il contratto c'è, il contratto non solo esiste ma è stato dal soggetto beneficiario del contratto evidenziato alle Iene in una telefonata. La seconda telefonata è avvenuta pochissimi secondi dopo la prima telefonata nel quale il mio collaboratore ha chiarito tutti gli aspetti della vicenda e che malauguratamente non è stata mandata in onda. Però sfortunatamente per chi vuole fare attività di sciacallaggio il contratto è qua. Lo ho a disposizione, lo metto a disposizione di Telemolise. Non è un contratto farlocco come qualcuno ha voluto riferire divertendosi ma è un contratto che ha una data certa che proviene da una istituzione preposta a fornire le date certe. Quindi lo metto a disposizione di Telemolise. Dico di più, aggiungo, che il contratto è per un importo superiore a quello che oggi mi è stato trasferito. Quindi coprirà anche i prossimi trasferimenti. Giusto per far comprendere che è vero che la classe politica in questo momento è sotto l'attenzione vigile del cittadino che fa bene ma non siamo tutti uguali. Ma lei ci autorizza a mostrare il contratto ai nostri telespettatori? Assolutamente sì. Eliminate i dati sensibili e ne fate ciò che volete. Magari lasciateci Vincenzo. Così uno non può avere il dubbio che sia soggetto diverso. Fermo lo stando che nel mio possesso l'originale che vi rammostro. Mi sembra assolutamente evidente che il contratto sia stato stipulato in ragione dell'articolo 7 e non quale gruppo consigliare. In ragione dell'articolo 7. Quindi in ragione degli emolumenti che vanno al consigliere regionale perché per questo tipo di funzioni e non quale capogruppo. Per eliminare i dubbi sarebbe opportuno che anche altri consiglieri regionali mostrassero i loro contratti. Cambiamo argomento. Parliamo del vertice dell'ITR. È stato confermato per domani nella sede del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Appuntameddo cruciale per l'ITR domani a Roma intorno alle 14. Infatti al Ministero dello Sviluppo Economico ci sarà un vertice tra i vari interlocutori per affrontare lo stato della situazione della più grande azienda tessile molisana. Come è noto a suo tempo proprio al Ministero dello Sviluppo, l'ITR presentò il suo dossier per chiedere il finanziamento di un contratto di sviluppo. Circa 8 milioni per la parte pubblica, di cui anche di recente Danilo Leva ha confermato la disponibilità. Due i problemi o gli ostacoli. L'attuale fase di richiesta di concordato al Tribunale di Sernia e la esclusione da quel tipo di finanziamenti delle aziende industriali operanti in Molise. La nostra regione infatti è stata esclusa dall'Obiettivo 1 e solo recentemente una nota chiarificatrice del Governo centrale ha reso noto che ci sono ulteriori finanziamenti per i contratti di sviluppo, per le aree estranee proprio all'Obiettivo 1. Per questo sarà decisivo l'incontro di Roma, che dovrà sciogliere entrambi i dubbi. Saranno presenti il nuovo amministratore delegato, Giovanni Petrolini, il proprietario Antonio Bianchi, i sindacati e le RSU, oltre che i rappresentanti della regione e della triade commissariale. Probabilmente questi ultimi saranno scarabbeo da una parte e chi menti dall'altra. Intanto non si attenua il clamore per la manifestazione di ieri a esermia dei lavoratori dell'ITR, soprattutto per la richiesta di un intervento immediato della Procura e del giudice preposto al concordato. Resta da chiarire ancora anche l'atteggiamento della regione, che non ha onorato la fiduizione e non ha esercitato l'opzione di ingresso nella società. Un atteggiamento giudicato dai dipendenti in lotta, attendista e distaccato dalla problematica occupazionale e sociale dell'ITR. Un atteggiamento più freddo rispetto a zuccherificio gamme cattolica, che sta destando notevole preoccupazione e ansia tra i circa 700 lavoratori diretti e il migliaio di collaboratori tra fasonisti e fornitori dell'indotto. Intanto sulla vicenda ITR il sindaco di Sernia Brasiello ha convocato una nuova riunione del tavolo tecnico sabato mattina alle 10 in Comune. E a Roma si è tenuto un incontro tra l'ACEM e il Governo per cercare di sbloccare i fondi della ricostruzione. Sentiamo. L'Associazione Costruttori Edili del Molise non si arrende e insiste per eliminare il vincolo del patto di stabilità dai fondi della delibera cipe destinati alla ricostruzione post-terremoto. D'intesa con i parlamentari del Molise, infatti, l'ACEM ha attivato un tavolo tecnico nazionale al quale hanno partecipato il senatore Roberto Ruta, l'onorevole Laura Venitelli, promotrice dell'incontro, due dirigenti inviati dal sottosegretario Sabrina De Camillis, Corrado Di Niro, Gino Di Renzo e Nicola Paolucci, rispettivamente presidente, vicepresidente e direttore dell'ACEM e l'onorevole Francesco Sanna, consigliere politico del Premier Enrico Letta. L'esito dell'incontro è stato giudicato proficuo da tutti i partecipanti. In particolare, il senatore Roberto Ruta ha dichiarato che il cantiere è stato aperto, nello spirito della piena collaborazione con il Governo, per rendere utilizzabili i 15 milioni di euro, possibilmente già nell'anno 2013 e per avere nel prossimo triennio certezza di risorse significative individuate con l'approvazione della legge di stabilità 2014 incardinata al Senato, per cui presenterò i necessari emendamenti. Dal canto suo, l'onorevole Sanna ha raccomandato i dirigenti della Presidenza del Consiglio presenti all'incontro di tenere in debita considerazione gli emendamenti del senatore Ruta, soddisfatto anche il Presidente dell'ACEM, Corrado Di Niro, che ha rimarcato come una piccola associazione è riuscita ad ottenere impegni precisi dai livelli nazionali importanti. La strada intrapresa è quella giusta, ha detto Di Niro, che ha voluto anche ringraziare i parlamentari molisani per la loro sensibilità e per il costante impegno profuso nella delicata e difficile vicenda. Intanto, nelle prossime ore, Roberto Rute e Danilo Leva incontreranno anche il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini. L'intento, ha concluso Ruta, è quello di mettere in campo e di unire tutte le forze per avere il massimo del risultato possibile, consapevoli della drammatica situazione finanziaria. La conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ha approvato all'unanimità la proposta presentata dal Presidente del Consiglio regionale del Molise, Vincenzo Niro, per svincolare proprio le regioni dal patto di stabilità sui fondi destinati a superare le varie emergenze. La proposta sarà ora trasmessa alla conferenza Stato-Regioni e al Parlamento per inserire le richieste nella legge di stabilità. Ora invece parliamo di trasporti e scontro tra il Presidente della Regione Frattura e i vertici delle ferrovie. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Solo un mese fa i rapporti tra la Regione e i vertici delle ferrovie dello Stato sembravano a dir poco idilliaci, strette di mano e tanti sorrisi davanti alle telecamere per la firma di un accordo che prevedeva corposi investimenti per la messa in sicurezza della tratta ferroviaria Campobasso Termoli. Un idilio che sembra essersi interrotto bruscamente al termine della conferenza delle regioni presieduta oggi dal Governatore Paolo Frattura. Ebbene, il Presidente della Regione ha attaccato frontalmente l'amministratore delegato delle ferrovie Mauro Moretti, che in sostanza ha detto che i cordoni della Borsa sono nelle mani dei Presidenti e che quindi tocca proprio a loro fare di più sul fronte dei trasporti ferroviari. La replica del Governatore del Molise all'esternazione di Moretti è stata vehemente. Se per i trasporti si stanziano 300 milioni, ma poi le regioni tagliano trasferimenti per 560 milioni e ha denunciato Frattura, vorremmo chiedere all'amministratore delegato dove sono le risorse di cui parla. Una domanda che probabilmente resterà senza risposte. Ma intanto, a proposito di trasporti ferroviari e di disservizi, arriva la presa di posizione del Consigliere regionale di Costruire Democrazia, Filippo Monaco, intervenuto in seguito all'ultimo episodio in ordine di tempo, che si è verificato sulla tratta Campobasso-Roma. Monaco ha presentato una mozione urgente al Consiglio regionale affinché l'Aula si impegni a trovare in tempi rapidi una soluzione che ponga fine ai viaggi della speranza, come li ha definiti il Consigliere, attivando un tavolo di confronto con i vertici di Trenitalia. È inaccettabile quello che i viaggiatori molissani da e per Roma devono affrontare ormai quotidianamente, ha denunciato. Ogni giorno facciamo i conti con i disagi di servizi, ritardi che superano anche le tre ore, senza parlare delle carrozze sovraffollate. A pagarne lo scotto sono sempre i pendolari e i viaggiatori, ha concluso Monaco. E ora andiamo a Termoli perché il Comune ha deciso di non applicare più la Tares, la nuova tassa su rifiuti ai servizi. Sentiamo Fabrizio Occhionero. La paura dei cittadini, ma in particolare dei commercianti e dei ristoratori, era quella di una vera e propria ammazzata sui redditi delle famiglie e delle attività. Alla fine il Comune di Termoli ha scelto di non applicare la tanto temuta Tares, ma di mantenere la Tar sulla tassa in vigore per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Ad annunciarlo il sindaco Antonio Di Brino, insieme agli esponenti della maggioranza e la dirigente del settore finanze Carmela Cravero. Un'opportunità offerta da una deroga nazionale che consente ai Comuni per quest'anno di non applicare la Tares e di evitare di conseguenza degli squilibri per alcune tipologie di attività. E' anche una scelta possibile grazie al controllo scrupoloso effettuato rispetto a chi in questi anni non ha pagato la tassa. Eravamo preoccupati anche noi perché l'applicazione della Tares a Termoli viste quelle che erano i coefficienti per le categorie produttive avrebbero determinato un aumento notevole soprattutto per alcune attività come bar, ristoranti e comunque in particolare le attività commerciali. La normativa obbliga per Olente a coprire il 100% dei costi relativi al servizio di spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti. A Termoli si tratta di circa 5 milioni e 800 mila euro oltre che la quota di 30 centesimi al metro quadro da versare direttamente allo Stato. Per questo motivo ha spiegato Ribrino. Ci sarà un aumento spalmato su tutte le categorie del 11-12%. Il che significa che siccome noi abbiamo già in qualche modo riscosso la Tarsu, nell'ultima rata che credo ci sarà o a dicembre o per non farla coincidere con la rata del NIMU, immagino a gennaio del prossimo anno, si troverà un aumento dell'11-12%, il che significa che ha pagato 100 euro per l'anno 2012, dovrà pagare ancora 12 euro. Il provvedimento riguarda l'anno in corso per il futuro, ha osservato il sindaco di Termoli, sarà questa la linea da seguire. Dobbiamo verificare quelle che saranno le indicazioni, e speriamo che non siano eccessivamente restrittive, come il decreto Ronchi, perché è nostra attenzione in questo momento a cercare di ridurre la pressione fiscale piuttosto che alzata. Sulla possibilità che rifiuti tossici siano stati interrati anche nella zona dell'Isernino è intervenuto il coordinatore regionale di Sinistra Ecologia e Libertà Candido Paglione. Le operazioni portate avanti per decenni nel Casertano e sembra anche nella nostra provincia sono un vero e proprio delitto, paragonabile per gravità ai crimini nazisti, ha detto senza mezzi termini. hanno compromesso la possibilità di uno sviluppo imperniato sulla qualità dell'ambiente, che è l'unica vera carta per il futuro delle nostre zone. E tutto, ha aggiunto Paglione, con il terrificante sospetto di aver agito con il disinteresse e in certi casi con la copertura di talune istituzioni. Adesso ha poi concluso Paglione. Non c'è altro da fare che intervenire subito. Gli esponenti del Movimento 5 Stelle del Molise in una conferenza stampa hanno annunciato le iniziative organizzate per sabato 9 novembre a Campobasso. Dalle 9 ci saranno banchetti informativi in corso a Vittorio Emanuele II. Nel pomeriggio alle 16 ci saranno gli interventi di deputati e senatori grillini che si confronteranno con i cittadini sui vari argomenti di carattere nazionale e locale. Interverranno anche i due consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Antonio Federico e Patrizia Manzo. E ora torniamo sul caso della scomparsa dell'insegnante originaria di Monteroduni perché la procura di Nuoro ha deciso di riavviare le ricerche. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. La procura di Nuoro non vuole lasciare nulla d'intentato. Dalla settimana prossima ripartiranno le ricerche di Irene Cristinzio, l'ex insegnante originaria di Monteroduni, madani residente a Oro 6. Da quattro mesi non si hanno sue notizie. Da quando uscì dalla sua abitazione per andare a fare la solita passeggiata. Le ricerche riprenderanno dei terreni intorno alla casa della famiglia Nanni Cristinzio per poi estendere il raggio d'azione al resto del territorio. L'attenzione sarà concentrata sui pozzi. L'ufficio tecnico del comune Sardone ha censiti oltre 100. Alcuni di questi erano stati già controllati nei giorni successivi alla scomparsa della donna, ma ora saranno scandagliati con maggiore attenzione con l'impiego di attrezzature più sofisticate da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco. La notizia è stata accolta positivamente dalla famiglia di Irene. Per noi è importante conoscere la verità. Anche la più brutta e atroce, ha detto il figlio agli organi di informazione locali, non c'è niente di peggio che vivere con questa incertezza senza sapere cosa e perché sia accaduto. Nei giorni scorsi una segnalazione alla trasmissione quarto grado aveva riacceso le speranze. Una donna disse di aver visto l'insegnante a Roma, ma le successive ricerche smorzarono gli entusiasmi. Si riparte da zero dunque, senza una pista precisa, senza uno straccio di indizio. La procura non scarta alcuna idea, dall'allontanamento volontario al rapimento, dal gesto estremo alla ben più terribile ipotesi dell'omicidio premeditato con occultamento di cadavere. I familiari di Irene propendono invece per la tesi del rapimento anomalo, forse causato da uno scambio di persona finito in tragedia. Certo è che con il passare dei mesi le speranze di ritrovare in vita l'insegnante molisana si affievoliscono, ma gli inquirenti hanno comunque il dovere di dare risposte, di arrivare alla verità. Lo devono in primis ai familiari, ma anche ai tanti amici e parenti di Oro 6 e Monteroduni. Questa mattina la strada della bonifica di Venafro è rimasta chiusa al traffico per alcune ore dopo il rinvenimento di un cadavere sulla carreggiata. Inizialmente si era pensato che l'uomo fosse stato investito da un pirata della strada, ma i medici hanno in realtà accertato che l'uomo è stato stroncato da un malore. La vittima è Antonio Lombardi, di 61 anni, molto conosciuto a Venafro. Stava tornando a casa dopo aver effettuato dei lavori in un terreno di sua proprietà. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Filignano e i vigili urbani di Pozzilli. Ora voltiamo pagina, parliamo del cinquantesimo anniversario dell'autonomia della regione. sono previste una serie di iniziative a Campobasso, alla Biblioteca Albino. Sentiamo. Il fenomeno dell'immigrazione oggi come nel passato continua ad interessare l'Italia anche il Molise. In occasione del cinquantesimo anniversario dell'autonomia regionale, la Biblioteca Albino, sostenuta dalla regione della provincia di Campobasso, ha organizzato una serie di incontri nel corso dei quali saranno presentati e distribuiti i volumi che affrontano i temi dell'immigrazione e dell'immigrazione. Si tratta di studi realizzati dal Centro Studi e Ricerche IDOS e dal CNR. Gli incontri si svolgeranno il 13, il 22, il 30 novembre ed il 5 dicembre ed affrontano i temi di strettissima attualità. Sono due temi assolutamente attuali e di grande impatto sulla società molisana, ma sulla società molisana nell'ambito nazionale ed internazionale. Sono due fenomeni con i quali dobbiamo fare i conti, due fenomeni che vanno osservati, capiti e gestiti soprattutto. Per cui l'immigrazione sarà affrontata attraverso la presentazione del dossier statistico predisposto da Lunar, che è un ufficio della Presidenza del Consiglio, che osserva il fenomeno a livello nazionale e ovviamente c'è anche una parte molisana. Per cui cerchiamo di capire nell'ambito di questo fenomeno generale, nazionale, europeo, in che modo il Molise viene coinvolto. Così come dall'altro lato riflettiamo su un secondo fenomeno che tutti tocchiamo con mano, ma che è comunque sfuggente, è che il fenomeno della mobilità dei giovani diplomati e laureati molisani, cioè persone con formazione medio-alta, che sono costretti di nuovo ad andare via, non più ovviamente con la famosa valigia di cartone, ma con il PC, il tablet, però sono costretti ad andare in giro per il mondo. apprezzatissimi, si inseriscono nelle strutture di ricerca, negli istituti universitari di cultura, in giro per il mondo, però vanno via. Intorno a noi c'è una marea di questi ragazzi che parte, per cui il tentativo, attraverso uno studio condotto dal CNR, a cui abbiamo affidato appunto questa ricerca, cerchiamo di cominciare a capire, a delineare il fenomeno, a capirne la qualità, in modo tale da poter, basandoci su questi primi dati, riflettere. E adesso apriamo una finestra sul mondo del cinema, in particolare sull'ultimo film di Checco Zalone, che si intitola Sole a Catinelle. Nella pellicola si parla anche del Molise, ma non proprio in maniera idilliaca. Sentiamo Tonino Danese. Polemiche a Catinelle per Sole a Catinelle. Il film con Checco Zalone ha fatto infuriare non poco i molisani, che in rete si sono scatenati per come il comico pugliese ha trattato la nostra terra, dove è venuto a girare in più paesi. Guarda dove andiamo. Vedi che questi sono posti bellissimi. Guti, se un papà porta qui il bambino in vacanza. È un coglione. Grazie. In conferenza stampa l'ammissione di Checco Zalone. Noi ci abbiamo dato giù pesante nella parte iniziale a dileggiare, diciamo, il Molise. Quindi volevo chiedere scusa, il mio crucio, non solo il suo, e se posso andare ancora in Molise. Ha chiesto scusa giustificandosi in qualche modo. In una prima stesura del film, si sarebbe dovuto concludere con questa famiglia che in Molise ritrova la felicità, in una situazione bucolica, quindi un po' Adriano Celentano, come nel concetto. Quindi si riapriva la fabbrica in Molise. E pensare che a Petrella Tifernina il comico pugliese è stato accolto come una star da cittadini, politici, addetti ed esperti della settima arte, tutti convinti che stesse facendo una pubblicità alla nostra terra. Poi se penso che è venuto il presidente della regione a ringraziarmi per tutto quello che hai fatto, per il Molise, e io mi sentivo una merda. Volevi chiedere scusa a Molise e dire che è una terra in realtà bellissima. Insomma le scuse sono arrivate, ma l'offesa per molti rimane. Il detto bene o male, purché se ne parli, vale poco per lenire la ferita all'orgoglio molisano. Rimanendo in tema di comicità e commedia italiana, quella grande che ha reso celebre nel mondo il nostro cinema, la quale non aveva bisogno della parolaccia e scurilità per far ridere. Del Molise parlò anche sordi in un celebre film citando Capracotta a paragone di Cortina. Ma il garbo e l'eleganza, l'ironia con cui lo fece furono il vero spot per la località turistica molisana, esaltandone la genuinità e la purezza rispetto a un mondo patinato e formale. Hai già scelto il posto dove passare il Capodanno? A Capracotta. A Capracotta? Mai sentito nominare? È il paese da nonno, signor Conte. È un paese turistico, alta montagna, bello, eh? Lo chiamano la piccola cortina degli abruzzi. Pardon, prezzo? 9.000, signora. Nemmeno molto, per la verità. A Capracotta ci faccio un mese di villeggiatura. Molise in cui ha recitato il grande Totò a Venafro e scenario di western italiani. Anche Sergio Castellitto, originario di Campobasso, ambientò una parte di non ti muovere in Molise e anche lui non fu tenero, ma la sua era una critica costruttiva di denuncia. Più di uno, invece, ha visto nel film di Zalone una vera e propria presa in giro gratuita al Molise. In questi giorni, comunque, anche da noi, sole a catinelle riempie le sale cinematografiche, vuoi per la curiosità, suscitata dalla polemica, vuoi anche perché c'è chi tanta offesa non l'ha poi ravvisata. Restano i fatti, però, e le scuse di Zalone, che comunque non ha risparmiato un'altra freccetina ironica. La gente molisana era quella che ci ha accolto con più entusiasmo perché non aveva mai visto proprio le macchine. Con la stessa ironia si può rispondere che di macchine intese come automobili e trattori e di macchine da presa anche ne vediamo e ne abbiamo viste come. Lutto nel mondo della letteratura e della poesia. È scomparso Vincenzo Rossi, letterato conosciuto non solo in Molise, ma su scala internazionale tanti riconoscimenti e premi assegnati durante la sua attività, svolta anche come direttore di riviste letterarie e presidente di premi nazionali di poesia. L'ultima sua opera è stata Annotazioni di una vita. I funerali si svolgeranno domani mattina alle 11 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Cerro al Volturno. Roberto Di Marzo, 17 anni, allievo del Conservatorio Pelosi di Campobasso, ha vinto l'undicesima edizione del Premio Nazionale delle Arti, sezione Strumenti a Percussione. Di Marzo è iscritto al settimo anno della Scuola di Strumenti a Percussione nella classe del maestro Giulio Costanzo. Dopo la vittoria di Antonio Armanetti, quattro anni fa è sempre per la sezione percussioni, altro prestigioso riconoscimento dunque per il Conservatorio di Campobasso. Ora invece parliamo di medicina presentati a Castelpetroso gli ultimi risultati della ricerca Neuromed su ictus e malattie cardiovascolari. Sentiamo. Prevenzione salute e cosa fare per ridurre i rischi di ictus e malattie cardiovascolari. Se ne è parlato a Castelpetroso nel corso di un incontro organizzato dall'Associazione Cuore Sano e dall'AMCI, di cui è presidente il dottor Salvatore Forte. Nel corso del convegno il professor Giovanni De Gaetano dell'Istituto Neuromed, responsabile del progetto Molisani, ha parlato dei risultati della sua ricerca applicata al territorio. Lei da anni sta studiando le patologie più frequenti della popolazione molisana. Che cosa riscontra rispetto agli standard nazionali? Riscontriamo che c'è una riduzione dei fumatori rispetto alla media nazionale, soprattutto tra gli uomini. e questa è una buona notizia. Invece c'è un eccesso di sovrappeso, soprattutto tra le donne, e l'obesità, anche se non manifesta, se non eccessiva, però è un fattore di rischio importante sia per il diabete e anche per alcune forme di tumore. Liciaia Coviello, del Dipartimento di Ricerca del Neuromed. Da queste vostre ricerche, da questi vostri studi, cosa viene fuori? La popolazione molisana ha grossi rischi di ictus, soprattutto per il sovrappeso? Sì, purtroppo la popolazione molisana, nonostante dovrebbe essere naturalmente protetta dalle malattie vascolari, è a rischio perché ha perduto queste abitudini positive per due motivi fondamentali. C'è tanta obesità in Molise, c'è tanta ipertensione. Alla base di queste due patologie c'è un mangiare male, abbiamo abbandonato la dieta mediterranea, consumiamo una quantità eccessiva di sale e facciamo veramente poca attività fisica. La prevenzione per queste cose oltre la dieta qual è? Più che la dieta è una sana alimentazione, perché dire dieta significa dire alle persone che non devono fare determinate cose. La sana alimentazione significa tornare all'alimentazione delle popolazioni mediterranee, basato su cereali, la pasta e il pane però integrali, vino in moderazione, l'olio d'oliva come condimento, poca carne, molto pesce, molta verdura e molta frutta. Ma questo non basta, bisogna anche fare una sana attività fisica. Prima si lavorava nei campi e questo compensava anche introdurre molto calorie. Oggi noi purtroppo passiamo la nostra giornata seduti alla scrivania. Quindi fare attività fisica, che non significa necessariamente andare in balestra, ma per esempio fare una passeggiata a passo veloce, se non si può uscire fare mezz'ora di cicletta a casa, è sufficiente per ridurre le malattie cardiovascolari, i tumori, di una quota anche più importante di quella ridotta da farmaci specifici. Il fenomeno del randagismo sta assumendo gli aspetti della vera emergenza. A denunciarlo è l'OIPA che insieme alle altre associazioni animaliste chiede l'istituzione di un tavolo tecnico per affrontare quello che ha definito una piaga sociale. L'assessore Petraroia non mantiene le promesse fatte agli animalisti, ha denunciato l'OIPA perché ha ben pensato di estromettere le associazioni dalla stesura del piano operativo. Gli animalisti chiedono l'intervento della Prefettura affinché vigili sul rispetto delle leggi e dei regolamenti sul benessere degli animali. E in chiusura del nostro telegiornale proprio un appello per i nostri amici animali, in particolare per un cane che alcuni volontari dell'Organizzazione Internazionale protezione, animali, sezione di Isernia, hanno trovato vicino lo svincolo di Isernia Colli al Volturno. Lo vedete in questa foto. Si tratta di un cagnolino di taglia piccola con un collare rosso e uno antipulce. È in buone condizioni, affettuoso, socievole ed educato, quindi si pensa che si sia smarrito. Naturalmente chi lo voglia adottare può mettersi in contatto con la redazione di Telemolise. Bene, è tutto anche per questo appuntamento con la nostra informazione. Grazie per averci seguito. Buonanotte a tutti voi.